sono barbara pols sono americana io sono nata in california san francisco vicino a san francisco adesso abito in italia abito a novato milanese vicino a milano e sono qui già da 15 anni io io ho avuto una vita all'inizio sembra un po triste che i miei genitori sono morte giovane però questo mi ha fatto pensare che devo proprio vivere la mia vita che devo cercare di fare quello che io proprio amo nella vita cioè quindi ho seguito il mio sogno io all'inizio sono andata dalla california fino a new york io ho vissuto a new york per otto anni sempre per la musica e alla fine ho seguito questo il mio sogno in italia perché italia è il paese del canto cioè sono cantante lirica le cose che mi fanno star bene sempre i miei amici che sono diventata la mia famiglia qui in italia che sono persone internazionali sono persone da tutto il mondo che anche loro sono venute qua a seguire i loro sogni in qualche maniera stranamente mi è capitato delle volte in cui non sono stata trattata molto bene ma non perché sono americana ma perché mi hanno pensato che ero di un'altra nazione cioè per esempio una volta mi hanno fermato hanno pensato che io rubato qualcosa pensando che io ero ucraina o qualcos'altro di quello che sono e stranamente quando io mi parlavano anche in russo io ho detto io non sono russa sono americana e stranamente quando ho detto che sono americana hanno detto ah va bene signora lei può andare ma se io ho rubato qualcosa io non ho rubato niente però se pensano così questo per me è brutto per le mie aspettative aspettative? Italia un po' sì un po' no corrisponde a quello che ho pensato la cosa visto che sono venuta qua all'inizio per la musica io penso ma che bello questo è il paese della lirica cioè sapranno tutti cioè fa parte della loro cultura tutti sapranno qualcosa della cosa che è sempre stata la mia passione e in fondo questo purtroppo è stato un po' una delusione che la gente che si incontra di giorno in giorno non è che capiscono un granché di questa cosa e però io ho trovato che c'è qualcosa nel sottofondo c'è qualcosa forse vado al ristorante e sento che qualcuno sta fischiando una melodia loro non lo sanno che è cos'è ma c'è c'è nel sottofondo qualcosa della cultura c'è della musica in in ognuno di di loro io credo essendo americano cioè ci sono nonostante da dove viene una persona non si può sempre non si può non si può mai nascondere o lasciare l'idea dell'origine di una persona ci sarà sempre qualcosa lì come ho detto prima nel sottofondo di me ci sarà sempre qualcosa di americana e di californiana che mi fa pensare ma perché fanno così perché fanno così ma io vedo un po' le cose più belle ma anche le cose brutte ma perché possono fare molto meglio se fanno così ma anche quando torno negli Stati Uniti io vedo delle cose che si può fare meglio perché vedo qua un esempio l'assistenza sanitaria che per me negli Stati Uniti è una vergogna che non abbiamo ancora un sistema così e anche per me qui c'è sempre l'esitazione io non voglio andare dal medico perché c'è già ancora questo pensiero che devo pagare devo pagare non ho l'assicurazione perché sono libera professionista essendo musicista quindi ci sono queste cose da tenere in mente cioè di pensare le cose più belle di qualsiasi parte dove si trova quando sono appena venuta qui in Italia all'inizio io ho cercato di essere più italiana perché perché volevo fare più parte di come sono loro come siete voi e quindi ho cercato di vestirmi più in nero blu scuro grigio ho cercato di mettere scarpe con i tacchi alti cioè ma io non riesco a camminare con certità cioè si deve e poi alcuni colori cioè mi rendono triste cioè io sono una persona mi piace l'allegria mi piace cioè proprio l'idea dello spettacolo di stare davanti al pubblico io sono una persona che piace anche nel senso di essere avere una vita più colorata non soltanto come si veste io sono così di carattere e quindi alla fine dopo qualche anno ho deciso che non devo essere diversa di come sono io se la gente mi guardano che sono diversa sono diversa e va bene così ok per me il carattere dell'Europa della storia dell'Europa la storia è proprio una cosa bellissima qua che essendo americana negli Stati Uniti noi vediamo una cosa che ha 200 anni stai attento metto sotto vetro qui a 200 anni da 2000 anni puoi dare un calcio se vuoi c'è così tanta storia qua e io anche ogni giorno quando guardo intorno a me io vedo delle cose che per me sono delle meraviglie che avete voi e questa è una cosa che avete in comune che spesso voi visto che fa parte del giorno quotidiano di ognuno di voi non vedete come me forse gli stranieri riescono ad apprezzare un pochino di più le cose che voi avete intanto per me la cosa che mi ha portato di seguire una carriera musicale è che la musica per me è quasi tutto è stato tutta la mia vita i miei genitori erano tutti due musicisti mio papà era un pianista mia mamma era un cantante anche lei ma l'hanno fatto scelte diverse hanno il mio papà ha avuto la fortuna di avere anche un'altra passione che lui era anche un ingegnere e mia mamma alla fine è stata una casalinga però nella nostra casa c'era sempre la musica e anche se loro hanno voluto che ciascuno di noi siamo in quattro io sono la piccola seguiva una cosa più pratica perché è difficile vivere come artista è difficile vivere sulla musica io ho deciso alla fine anche perché come ho detto prima sono morte giovane di seguire il loro sogno che era anche il mio sogno di fare quello che potevo fare per loro nel loro onore anche quando io canto quando sono dentro la musica è la cosa più bella che esiste quando è tutto quando va tutto bene io mi sento quasi quasi che io non ci sono che c'è qualcosa che mi qualcosa che mi sta suonando che io non esiste più che faccio parte di un universo proprio che è quello della musica io cerco di condividere quello che sento io la passione per la musica con tutti quelli che mi vengono ascoltare a me piace cantare per persone che apprezzano la musica che capiscono qualcosa della musica forse che hanno studiato ma è anche bello cantare per persone mi fa tanto piacere quando finisco un concerto e qualcuno viene che dice che non ha mai apprezzato la lirica è che tramite quello che ho fatto io è venuto almeno l'idea di andare a ascoltare altre cose andare a sentire altri cantanti andare a sentire altri concerti l'idea che la musica potrebbe unire io penso che questa è una bellissima cosa che quando siamo dentro un'orchestra siamo una squadra assieme siamo una squadra internazionale sono contenta che io canto con persone con diverse cittadinanze diverse nazionalità che condividiamo assieme anche all'inizio quando sono venuta qua quando sono venuta io non parlavo bene forse neanche adesso non parlavo bene italiano e io invece di iniziare come solista io ho cominciato con un coro io ho cantato con la coro Verdi a Milano e lì ho cominciato a rimparare italiano però stanno dentro un gruppo di persone che hanno avuto tutto hanno ancora la stessa passione per la musica cioè io seguo la prova io capisco quello che hanno detto anche perché tanti termini musicali sono italiani così anche ho imparato italiano infatti è una cosa che mi piace tanto e ci sono tante parole che io ho imparato da piccola come musica come parole della musica che non sapevo proprio che sono proprio parole anche io sono un soprano spinto io ho visto spingere sulle porte e io penso sono io spingere perché sono spinto lirico spinto e tante cose sforzando allegro tutte queste parole che per me erano parole della musica e infatti sono in fondo parole normale italiano ma questo per me è molto bello il mio compositore preferito è Gustav Mahler e in parte perché ci sono le sinfonie fantastiche proprio bellissime ma anche e soprattutto il Rückert Leader che sono cinque canzone basate sulle poesie di Rückert e proprio quello preferito in assoluto è uno che si chiama Ich bin der Welt abhandlung gekommen che parla proprio è come io vedo anche la musica che in fondo questa canzone parla che io abito solo nel mio mondo nel mio cielo nella mia canzone e io mi sento tanto che questo è la mia vita io spero che la gente che partecipano in questo progetto riescano a dimenticare tramite la musica per qualche periodo di tempo che siamo diversi ma siamo anche tutti uguali c'è tutte queste cose del cuore e dell'anima che sentiamo tutti che siamo musicisti sentiamo nella musica nelle armonie e negli accordi della musica che possiamo sentire nella nostra vita grazie 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 grazie